Friday! 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 Perché stasera che giorno è? Friday! Friday! Ok in dialetto veneto vuol dire fra le dita, la V di venerdì, di grande V, tutto insomma praticamente. Dovete sapere che Ciofani ha scoperto che, come si dice venerdì in inglese, che è Friday, in dialetto veneto vuol dire fra le dita, perché le dita si è i dei e quindi fra i dei, E quindi è venuta fuori questa cosa che è Friday, Friday, Friday Posso chiedere una cosa? Sofia, scuola del dolcissimo Verresti sul palco a fare una foto a tutti i Friday che le mandiamo a Ciofani dopo?